Salve, sono Francesco Bedogni, sono un maestro di Kung Fu tradizionale cinese, stile Shaolin. Ho incominciato questo percorso insieme ad altri percorsi circa 30 anni fa. Sono un maestro cintura nera terzo duan, riconosciuto dalla FIWUC, la relazione italiana Kung Fu Wushu. Sono un insegnante riconosciuto dalla FISCU, la relazione italiana Scuola e Tumina, di Qigong appunto. Ho fatto altri percorsi, tecniche di rilassamento, meditazione. Ho cercato di approfondire il più possibile il mio bagaglio tecnico. Sto facendo la scuola di medicina cinese tradizionale con il maestro Xi Yanhui alla Fondazione Santa Lucia. Mi insegno nella scuola che è a Signa, in via Cavalcanti, al 12A. Ormai siamo lì da circa nove anni. Che cos'è l'energia? È un discorso complesso in cui si potrebbe entrare in una sorta di meandro da cui poi è difficile sortirne per noi occidentali, perché non sempre si ha una corretta cultura di questo. I nostri corsi si fa meditazione, si fa Qigong, si fa Kung Fu, si fa San Da. I ragazzi si danno tanto da fare. Facciamo qualche gara, anche se non è quello che ci interessa. Sempre con ottimi risultati e per fortuna è questo.